che praticamente mettono il segnale dove adiccare, lo beccano a molti quelli. I volontari mi hanno detto che le vanno a togliere di notte. I volontari che si nasce ucraini si accogliete di trovare tutto solo. Sì, sì, quello sì, perché praticamente loro controllano tutto e stanno cercando di evitare altri bombardamenti. Lui è bloccato qui perché lui doveva ritornare, ma lui è venuto da Ucraina e doveva ritornare. Però in questo momento è sempre rifugato perché... Però lui è in Italia. No, lui non vive in Italia. Lui infatti non parla neanche l'italiano. Allora erano in Italia e sono un po' le partite. Allora, loro scappano. Però adesso, le uomini...